Ora metti i piedi... Ma non riesco a tenermi, è strano. Forse poi devo provare a mettere... Vai, vai, vai! Io sono salito in maniera diversa, te l'ho detto. Tenevo di rovescio questo... non dove hai messo la mano tua, ma più a destra. Ho tirato i piedi dal buco. Qua dove cazzo è? Allora, fai quello che ti ho detto io. Cioè? Più a destra, la mano destra. Il piede destro in questa alveare qua. Ti devi fidare. La presa per la mano destra è questa qui. Punto e basta. Vedi come ti viene meglio tenerla? Non è questa, devi arrivare a quella. Quindi devi mettere i pali. Questo. E' un po' più duro. Un dito più duro ancora. Ah, spenditi tutto il peso a sinistra, dai! Con un po' di corda. Tutto a sinistra. Ma cazzo è fatto? Tocca. Tocca. Guarda la pighetta adesso. Perché ci vuoi dire? Qua? Adesso c'è una fettura verticale. Oh, all'altezza del tool machine. C'è un po' di corda. C'è un po' di corda. Ah. Ok. Sinistra, non buca, sì. Staccati. Staccati. Staccati, Albert. Staccati, siamo poi. Staccati. 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 Grazie a tutti.